Grazie, grazie agli organizzatori per aver insistito per la mia partecipazione a queste giornate di studi su Quarenghi. Il titolo forse avrebbe potuto essere Il viaggio segreto dei piranesi in America. Ci sono un po' di mesi nella vita di piranesi non documentati e avrei voluto portarvi la novità di aver trovato documenti che Piranesi ha preso un piroscafo ed è andato negli Stati Uniti, ma naturalmente questa è fantascienza, non è stato così. E quindi molto più modestamente vorrei portare alcune argomentazioni su un tema che da tempo mi affascina, spero pertinente a queste due giornate di studi. L'ambiente, i nomi, il contesto, i personaggi sono quelli di cui abbiamo sentito parlare ieri e di cui continuiamo a parlare oggi. La mia idea è, forse può sembrare peregrina, perché occuparsi di una fortuna, di una influenza di piranesi, piranesi che muore nel 1778 proprio a distanza di mesi dalla nascita dell'America, degli Stati Uniti d'America. E che senso può avere cercare Piranesi nel nuovo continente. E Piranesi stesso probabilmente aveva un'idea molto vaga di che cosa fosse l'America, dei territori coloniali così lontani della nazione inglese, da lui così amata e ammirata. E probabilmente non aveva mai sentito parlare della lotta americana per l'indipendenza, del movimento indipendentista per liberarsi dal gioco inglese. Eppure le idee rivoluzionarie di Piranesi circa il ruolo dell'artista nella società, la sua ricerca appassionata per la libertà creativa e di espressione, la sua visione radicale dell'artista come produttore di arte ma di immagini e di manufatti, e trovano una rispondenza diretta anche col mondo americano, che in questi decenni è in rapidissimo sviluppo. Una immagine, Piranesi e il suo coetaneo americano, l'incisore e poi rivoluzionario indipendentista Paul Revere, sembrano i due personaggi, sembrano quasi dialogare pur da posizioni, da contesti così distanti, così diversi. Sono due ritratti che hanno delle caratteristiche simili, l'orgoglio di farsi dipingere, sappiamo che il ritratto di Piranesi è un ritratto post-mortem naturalmente celebrativo, quello di Paul Revere invece no, è fatto dal suo cognato John Singleton Copley, però in entrambi si mostra il ruolo, il ruolo autonomo, intellettuale ma anche sociale dell'artista, e entrambi incisori mostrano gli strumenti, orgogliosamente gli strumenti del proprio lavoro, simboli di emancipazione sociale e culturale. Effettivamente a Roma poi i Piranesi potrebbe anche aver sentito parlare di Paul Revere, perché i nomi e i personaggi in questa Roma e in questa Europa artistica della seconda metà del Settecento sono poi in realtà dei circoli molto ristretti, delle conoscenze, una rete allargata sì, ma pur sempre strettamente interconnessa. Piranesi è in contatto con i primi gentiluomini, i gran torres americani, in visita nella città eterna, in visita a Roma. In realtà forse Piranesi non li avrebbe molto distinti dai suoi tanti clienti, colleghi, amici, mecenati inglesi. Eppure però, come spero di poter dimostrare, nel loro viaggio di formazione a Roma invece gli americani, gentiluomini e artisti, agli americani Piranesi non passa sicuramente inosservato. Piranesi è una figura, l'incisore Paul Revere è il primo incisore professionista americano negli stessi anni di Piranesi e con questo ruolo in realtà completamente diverso dell'incisione come documentazione quasi giornalistica e degli aspetti della rivoluzione, della lotta per l'indipendenza. Ma, sottolineo, questa comunanza di aspetto nel vedere la produzione incisoria come elemento forte nella società. Piranesi è una figura quindi, Piranesi è una figura ineludibile nell'Europa della seconda metà del Settecento. C'è un settore di studi ricchissimo sulla influenza, sulla fortuna, la diffusione, l'influenza di Piranesi nella cultura occidentale del secondo Settecento e anche agli estremi della cultura occidentale. Sappiamo molto, negli ultimi anni, le ricerche si sono moltiplicate e approfondite. Mi spiace che Letizia Tedeschi non sia qui con noi oggi, ma gli studi sulla fortuna di Piranesi nel Settecento in Russia hanno dimostrato quanto sia importante e quanto sia stata profonda. Ma agli estremi opposti della cultura occidentale, la fortuna di Piranesi nell'America coloniale e indipendente in realtà non è mai stata oggetto di studio. Oggi presento solamente alcune riflessioni preliminari di una ricerca più ampia che ho in corso, ma devo dire che mi sono abbastanza sorpreso dei primi risultati che si riescono a cogliere su questo tema. Molto prima che le biblioteche e i musei americani diventassero forse i più ricchi depositi di materiale piranesiano al mondo i suoi volumi e le sue incisioni non erano sconosciute o una presenza meramente casuale nell'America del secondo Settecento. Lo studio del collezionismo di stampe nell'America del Settecento sta dando infatti nuovi risultati. Ci sono molte ricerche in questo campo. L'incisione piuttosto che la pittura è la forma d'arte più facilmente disponibile e le stampe vengono importate, prodotte e collezionate in America per fini decorativi ed educativi con un valore anche proprio di, che è quello che volevo mostrare attraverso questa incisione di Paul Revere, con un valore documentario anche in presa diretta nella realtà della storia. Dagli anni Quaranta del Settecento le gazzette delle principali città costiere riportano l'arrivo di casse, di balle, di libri e di incisioni e i vari librai mettono poi gli avvisi sulle gazzette come pubblicità per la vendita di incisioni. I vari soggetti che vengono ricordati ricordano anche Rotundas of Rome, già a partire dal 1740, Views of Naples and Rome, sempre negli anni Quaranta, Inside St. Peter's at Rome, Roman Antiquities, più in generale. Gli inventari settecenteschi americani testimoniano la diffusione di stampe negli interni domestici con soggetti ricorrenti, tra cui architettura e rovine di Roma. Addirittura nell'inventario della residenza di George Washington a Mount Vernon abbiamo veduta dell'arco di Costantino appesa in un ambiente accanto a una carta della pianura padana. La connessione forse, non lo so, poteva essere più chiara all'epoca, a me sfugge. Non sono documentate invece print rooms, stanze di incisioni, in America. Un tipo di decorazione invece molto diffuso in Inghilterra, ma in generale in Europa, nel secondo settecento, dove spesso figurano vedute di Roma e anche proprio incisioni di piranesi, come possiamo vedere in questo caso inglese. Risultati simili venivano invece raggiunti in America con le preziose carte d'apparati di produzione inglese che venivano ordinate a Londra con cornici rococò a inquadrare rovine e capricci, in realtà più nello stile di Pannini che in quello di Piranesi. Intorno al 1760 i primi americani, gentiluomini e artisti, iniziano poi ad arrivare fisicamente a Roma per completare la loro educazione. I pittori Benjamin West e John Singleton Copley risiedono a Roma rispettivamente nel 1760-63 e 1774-75. Benjamin West è sicuramente in contatto con Piranesi attraverso la colonia di artisti inglesi, di cui gli artisti americani facevano ovviamente parte, e la corte del cardinale Albani che West frequentava. Copley ricorda invece specificamente Piranesi tra le sue conoscenze e ricorda anche i rapporti cordiali e addirittura i consigli artistici che Piranesi gli avrebbe dato. Come tutti gli stranieri durante il loro Grand Tour, gli americani visitano musei e monumenti, partecipano alla vita sociale della città, i gentiluomini americani comprano opere d'arte, specialmente stampe in particolare, e si fanno fare il ritratto dagli artisti più in voga del momento, come Angelica Kaufman naturalmente, o lo stesso Copley che a Roma esegue ritratti di gentiluomini americani secondo la tipologia standard del ritratto del romano, del Grand Tour. Il doppio ritratto di Mr. e Mrs. Ralph Hissard è un capolavoro del genere, in questa ambientazione assurda ovviamente, sul Colosseo, da questo salotto elegante, trasportato a un plein air, con tutta l'oggettistica standard del ritratto formale del Grand Tour, ma con questo aspetto così rilassato di questa coppia elegante che fa tappa a Roma e poi sarebbe andata anche a Napoli, avrebbe proseguito il tour verso Napoli prima di rientrare in America. Noto che, in contrasto con la sedia e il sofà di impianto Rococo, il tavolo in primo piano ha un certo carattere piranesiano che potrebbe essere approfondito. Devo dire che cercando ho trovato poi anche un americano tra gli sponsor di Piranesi, tra i veri e propri clienti d'alta fascia di Piranesi, cioè quei clienti a cui Piranesi dedicava, dietro compenso naturalmente, le sue incisioni. Ed è quel Thomas Palmer di Boston, laureato ad Harvard nel 1761, poi però come loyalist si trasferisce a Londra, dove vive, e dopo il soggiorno romano, a cui nel 1778 Piranesi dedica una delle tavole dei vasi cipi candelabri. E nel 1772, e questa è una storia che è significativa per Piranesi in America, è proprio Thomas Palmer che dona alla sua università, alla sua alma mater, alla biblioteca di Harvard, il primo set completo di opere di Piranesi che arrivano ad Harvard nel 1772, il primo Piranesi che ufficialmente entra, è documentato che ufficialmente entra in una biblioteca, in una collezione americana. Durante tutta la seconda metà del 1700, quindi un gruppo ristretto di americani a Roma entra in contatto diretto con l'arte contemporanea, e l'architettura antica, ma rientrati in patria in che contesto si trovano poi a utilizzare, sviluppare queste loro esperienze? Perché l'America di questi decenni finali del 1700 è un contesto chiaramente completamente diverso da quanto, da quei contesti in cui poi i gran turist europei si trovavano poi ad affrontare una volta in patria. quale promozione artistica, quale mecenatismo architettonico si poteva sviluppare con un impianto piranesiano nella propria cultura visiva nell'America della fine del 1700. Thomas Jefferson è naturalmente una figura chiave in questo e lui è esplicito, come sempre, proprio a questo riguardo. nel 1788 scrive questa nota per degli amici che si apprestavano a viaggiare in Europa, questa nota molto sintetica, ma che si intitola proprio Objects of Attention for an American in Europe. Interessantissimo. L'architettura è selezionata da Jefferson come il tema principale insieme all'agricoltura, alle arti meccaniche, la tecnologia e all'arte dei giardini. Architecture worth great attention. E poi qui spiega perché l'architettura ha bisogno di essere studiata con grande attenzione. Traduco per essere più veloce. Poiché in America raddoppiamo il numero di abitanti ogni 20 anni, dobbiamo raddoppiare le nostre case. Inoltre noi costruiamo con materiali così pessimi, deperibili, che metà delle nostre case ogni 20 anni devono essere ricostruite. L'architettura è quindi tra le arti più importanti ed è desiderabile che venga introdotto il buon gusto che noi non abbiamo e quindi l'architettura europea è fondamentale. In un'arte che è poi sotto gli occhi di tutti e quindi si esprime proprio in questo modo. La pittura e la scultura, dice Jefferson, non vanno considerate. Too expensive for the state of wealth among us. Sono arti troppo ricche per la nostra, per il nostro stato economico. It would be useless therefore and preposterous, assurdo per noi diventare conoscenze in those arts. Quindi pittura e scultura are worth seeing. vale la pena guardarle, sono degne di essere osservate, but not studying, ma non vanno studiate. Per fortuna successive generazioni di americani non hanno seguito questo precetto di Jefferson. Negli stessi anni, 1788-89, il segretario, nonché amico, confidente di Jefferson, William Short, durante il suo soggiorno di studio a Roma, scrive nello stesso spirito le sue impressioni sull'architettura della città, ma si sofferma unicamente sull'architettura antica, repubblicana e imperiale, con un rimando esplicito al contesto della nuova nazione, proprio nello spirito di Jefferson. Traduco anche qui velocemente, i resti della, questa è una lettera da Roma a Jefferson, 1788, i resti dell'antichità qui testimoniano positivamente di un governo libero, free government, e le opere costruite mentre Roma era sottoposta ad un singolo, ad un imperatore, erano più per lo splendore e per rendere eterna la memoria dell'imperatore, come terme, obelischi, mausolei, che per altri scopi. Le opere costruite mentre Roma gustava la repubblica erano per il bene di molti, erano utili, come acquedotti, strade, eccetera. Nel suo ritratto William Short sceglie come sfondo il Tempio Dorico di Nettuno a Pestum, copiato proprio dalle incisioni di Piranesi che, è documentato, aveva acquistato a Roma. Biblioteche americane. i grandi volumi di Piranesi a soggetto archeologico di Piranesi sono pensati per un pubblico internazionale, sono pubblicati in più lingue, latino, italiano, inglese, traduzioni inglesi e francesi. Le dimensioni, il costo, l'impianto filologico erudito ne fanno però un prodotto editoriale carissimo, elitario nell'Europa del tempo. Nell'America del Settecento sono al di là delle possibilità anche delle biblioteche più ricche. ma due nuclei importanti di opere di Piranesi entrano nella biblioteca di Harvard nel 1772, quelle inviate da Thomas Palmer che ho già citato e le opere piranesiane non sappiamo esattamente quali ma sappiamo che ci furono donate da Thomas Hollis amico e corrispondente di Piranesi con cui condivide gli interessi libertari e la filiazione massonica e una visione polemica e radicale della civiltà romana. Thomas Hollis si sa è un personaggio molto interessante nella cultura europea del secondo Settecento la sua diretta corrispondenza affinità con Piranesi è nota ed è nota l'attività di Hollis nell'inviare libri a moltissime biblioteche europee e americane sempre con accenni forti politici libertari i libri che manda ad Harvard sono molti e spesso hanno delle iscrizioni nel risvolto di copertina che sottolineano il significato che Hollis dava al dono che inviava non sono rimaste le copertine originali delle opere di Piranesi donate da Hollis ad Harvard ma sono rimaste le note nel risvolto dell'esedificio di Roma dell'edizione che lui invia di De Godet e quanto scrive Hollis è indicativo del significato nell'inviare in America opere sull'architettura antica e sull'architettura romana Thomas Hollis has been content to send this book to Harvard College that when by commerce riches shall have flown in upon the good people of New England then it may serve as a faithful standard to them of several of the most perfect finest edifices which were erected in the most polished ages of antiquity ma poi conclude in questo modo men of New England uomini della Nuova Inghilterra diffidate beware however again beware ripeto diffidate of refinements and luxuries un atteggiamento simile di totale diffida per gli aspetti più esuberanti dell'architettura romana è ampiamente condiviso nella cultura americana della fine del settecento e nell'America repubblicana della fine del settecento rendendo difficile il pieno apprezzamento ovvio di tanti aspetti della visione piranesiana dell'antichità a Harvard i volumi piranesiani erano schedati tra le opere sull'antichità non tra le opere di architettura del resto per gli artisti e per i primi architetti attivi in America o per i costruttori americani attivi in America in quei decenni e per la stragrande maggioranza dei loro committenti i volumi di piranesi a Harvard come le singole incisioni che sicuramente saranno state già presenti in America in qualche collezione in qualche ricca abitazione non erano pressoché irraggiungibili fisicamente ma sarebbero stati anche del tutto incomprensibili e sostanzialmente inutilizzabili ma le cose cambiano velocemente in America nel secondo settecento l'esperienza del giovane John Trumbull studente a Harvard nei primi anni settanta è indicativa perché Trumbull ci parla nella sua autobiografia proprio dei suoi anni da studente a Harvard quando volendo approfondire la sua cultura visiva si sente già attratto per la pittura per l'arte ricorda di aver cercato avidamente immagini nella biblioteca dell'università ed essersi imbattuto in un set of Pyrenezi's prints of Roman ruins così che è proprio il e sono proprio i volumi donati da Hollis e Palmer che vengono quindi subito utilizzati come auspicato dai donatori proprio come strumento formativo educativo alla fine del settecento l'opera di Piranesi quindi inizia a svolgere un ruolo nelle educazioni dell'elite americane impegnate nella promozione delle arti e a sentire l'esigenza di promuovere la costruzione di monumenti pubblici per la nuova nazione e mettere a punto mettere a fuoco uno stile identitario e riconoscibile come nazionale la visione piranesiana direttamente attraverso i suoi testi e le sue immagini mediata anche attraverso ovviamente lo vedremo la cultura inglese e francese ha quindi svolto in un certo senso un ruolo nel rapido sviluppo dell'architettura e della progettazione urbana della nuova nazione in what style should we build? beh questa è la domanda il titolo del pamphlet di Heinrich Hübsch 1828 ma che in generale riassume quelli che sono un po' i temi della ricerca di una identità stilistica per l'architettura occidentale tra fine settecento e primi ottocento in un contesto in rapido cambiamento sociale e sviluppo tecnologico gli Stati Uniti partecipano pienamente a questo dibattito aggiungendo l'interesse in una nazione che non ha una tradizione architettonica per lo sviluppo di uno stile nazionale il confronto sullo stile da adottare nel progetto per la cattedrale cattolica di baltimora nel 1805 è in questo senso molto significativo benjamin latrogue propone un disegno gotico che però il vescovo di baltimora contesta per richiedere poi esplicitamente un disegno classico ritenuto più americano si esprime proprio in questo modo anche perché naturalmente romano e quindi cattolico il tema di come creare un linguaggio nazionale e identitario questi sono dettagli della cattedrale mi sono un po' divertito naturalmente possiamo poi discutere se la trova avesse in mente anche cose di questo genere ma alcuni aspetti possono essere divertenti la ricerca di un linguaggio nazionale che abbiamo proprio come dibattito Jefferson al centro con la creazione dell'ordine americano un American capital un American order ma questo è un qualche cosa che sappiamo nel secondo settecento dall'Inghilterra alla Francia attraverso Piranesi e il concetto di libera creatività degli ordini che gli antichi romani hanno promosso al confronto invece con la rigidità dei tre ordini dei tre ordini greci quindi polemica piranesiana arriviamo poi a sperimentazioni di questo genere di grande libertà che in un contesto possiamo dirlo genericamente molto più trattenuto più classicista più americano arriva poi fino a questa ricerca che ancora una volta con questo taglio piranesiano fino a questa visione di tutti gli stili possibili immaginabili della storia da cui possiamo da cui possiamo attingere in una nazione che naturalmente non aveva una propria storia e dei propri modelli forti architettonici che li deve cercare e artificialmente innestare Thomas Jefferson e Piranesi il nome di Piranesi nelle lettere nella corrispondenza negli scritti ma anche nei progetti nei disegni di Thomas Jefferson compare ma compare in modo del tutto casuale se potessimo proprio mettere su una bilancia il nome di Palladio e il nome di Piranesi ecco Palladio è citato centinaia e centinaia di volte Piranesi sarà citato tre o quattro volte in totale in maniera spesso anche addirittura casuale poco poco coerente nel 1805 quindi in tempi già tardi Jefferson è solo nel 1805 che ricorda le vedute di Roma di Piranesi nella lista di desiderata per la biblioteca da comprare di libri da comprare per la biblioteca dell'università della Virginia ed è sempre nel 1805 che il libraio francese da cui lui si riforniva gli propone l'acquisto di una stampa in quattro fogli intitolata Rome e icnografie Jefferson aveva una collezione straordinaria di incisioni di piante di città europee è solamente una mia idea che questa Rome e icnografie ci sono tante piante che si intitolano che hanno questo titolo ma nessuna in realtà in quattro foglie neanche l'icnografia Campi Marzi di Piranesi perché è in sei in sei fogli però mi diverte l'idea di pensare a un Jefferson che possa aver visto sicuramente l'avrà vista la ricostruzione fantastica utopica o distopica forse di Piranesi del caos e della grandiosità della topografia dell'antica Roma beh le reazioni di Jefferson forse saranno state di terrore di fronte a questo caos urbanistico a questa grandiosità monumentale ma così disordinata e Jefferson aveva grandi riserve sull'idea del ruolo delle città nella civiltà nella nuova società americana che per lui deve essere una società sana agricola rurale basata su una gentry legata alle grandi alla produzione agricola la Roma imperiale per Jefferson è come le grandi metropoli europee contemporanee Parigi Londra per quanto riguarda l'architettura le sue funzioni e la tecnologia il rapporto di Jefferson con Piranesi invece è senz'altro stato molto meno critico ed è durante proprio il solo una nota il disegno per la nuova capitale degli Stati Uniti al disegno complesso raffinatissimo di Lanfant Jefferson proprio all'opposto di Piranesi all'opposto delle riflessioni francesi sull'impianto urbano Jefferson è legato strettamente ad una grandiosità ma razionale di impianto a griglia per quanto riguarda invece lo sviluppo delle tecniche così importanti per la nuova nazione la consonanza fra visione piranesiana e idee di Jefferson appare a questo punto molto particolare nei suoi viaggi nel sud della Francia Jefferson ammira sì l'architettura antica la maison carré che diventa per lui un testo fondamentale ma è anche affascinato dalle grandi strutture funzionali le grandi infrastrutture territoriali degli antichi romani from Lyon to Nîmes I have been nourished with the remains of Roman grandeur I was in great good humor at the Pont du Gard a sublime antiquity and well preserved sembra quasi di sentire proprio questo afflato piranesiano alla vista del Pont du Gard e a Parigi Jefferson frequenta e discute di architettura con un personaggio che veramente a questo punto ubiquitario lo abbiamo visto Clarisseau e Jacques Guillaume Legrand che aveva lavorato con Piranesi a Roma negli anni 60 e Legrand che sarebbe diventato il primo biografo ufficiale di Piranesi alla fine del secolo quindi questo dialogo della cultura francese inglese con Piranesi che continua e vivissimo negli anni 70 80 90 fino ai primi anni dell'Ottocento su cui gli americani e Jefferson poi da protagonista si innesta e Clarisseau come sappiamo oltre ad aver lavorato per la Russia lavora per l'America perché Jefferson lo utilizza per i disegni e la progettazione dello state capital di Richmond e Jefferson poi studia e ammira le aloblè con la loro struttura cupolata così grandiosa ma così leggera di Legrand e Molinot la formazione classicista possiamo dire anche poi palladiana di Jefferson si apre all'apprezzamento dei valori tecnici e funzionali dell'architettura romana esaltati dall'opera di Piranesi proprio perché Jefferson intravede essenziali elementi che possono essere traslati nell'architettura nella nuova architettura americana non nell'architettura domestica non nell'architettura corrente ma per proporre nuovi modelli di un'architettura ufficiale statale della nuova nazione quindi una separazione che forse dobbiamo cominciare a vedere in maniera di mettere meglio a fuoco quindi chiaro c'è un Jefferson è un'architettura americana vernacolare tradizionale che è classicista palladiana ma molto più molto diversa da quello che deve essere un nuovo linguaggio ufficiale che va invece artificialmente creato in una nazione che non lo ha non lo ha elaborato e non ha i suoi modelli e non è un caso che la prima volta che Jefferson cita il nome di Piranesi nei suoi scritti è in una lettera del 1791 in cui Jefferson fa riferimento direttamente ai temi tecnologici di Piranesi le tecniche costruttive l'ingegneria degli antichi romani che affascina antiche e anche contemporanee che affascina Jefferson e che Piranesi aveva già offerto nella sua analisi dell'architettura romana nel 1791 proprio in relazione alla costruzione di Washington e dei suoi edifici più rappresentativi il Capitol e la White House la residenza presidenziale che Jefferson fa riferimento diretto a Piranesi ordinando a Parigi le tavole del Pantheon pubblicate nel 1790 l'anno prima da Francesco Piranesi però utilizzando ampiamente i rilievi i disegni del padre e li compera ordina il Pantheon di Piranesi e ancora Ancient Buildings of Rome by Degodet il tutto gli sarebbe servito come scrive as I wish to render them useful in the public buildings now to be begun at Georgetown cioè Washington la nuova capitale di Washington D.C. Due campi d'ogli Roma e Washington la costruzione dell'edificio più rappresentativo della nuova capitale della nuova nazione americana si sa è un affare molto controverso molto prolungato nel tempo ma anche la progettazione è molto difficile molti architetti sono intervenuti successivamente nel 1791-92 le linee guida del concorso sono tracciate dallo stesso Jefferson che però di fatto fa riferimento solo alle dimensioni alle funzioni e al posizionamento dell'edificio su un'altura una piccola altura sopra il piccolo affluente del Potomac che si chiamava evocativamente Taib ma Jefferson raccomanda di fare allusione a modelli antichi romani e mette proprio insieme le due cose per il Capitol riferimento a modelli che l'antichità ha dimostrato essere validi mentre per la residenza del presidente modelli francesi contemporanei quindi questa è una divisione molto interessante Whenever it is proposed to prepare plans for the Capitol I should prepare the adoption of some of someone of the models of antiquity which have had the approbation of thousands of years migliaia di anni Jefferson vuole che il nuovo Campidoglio includa un rimando diretto al Pantheon questo lo dice esplicitamente l'architetto francese Etienne Sulpissallè che nel 1793 revisiona i progetti vincitori i disegni che avevano vinto dell'autodidata William Thornton fanno proprio riferimento a questo le misure della rotonda sono esattamente quelle del Pantheon e la stanza will be crowned in the same taste cioè una cupola il Capitol è una costruzione molto complessa che non ha riferimenti all'antico e non ha riferimenti in un modello europeo standardizzato possiamo ricordare che come modello questo è il modello per il Capitol di Washington ma gli unici riferimenti possibili plausibili da adottare per una funzionalità così complessa camere di rappresentanti uffici biblioteche scaloni la camera di giustizia eccetera sono è il dibattito inglese che dagli anni 40 in poi del 700 da William Kent a James Adam si interessa della ricostruzione della Houses of Parliament a Londra e il rimando è evidente ma con un richiamo ad una grandiosità di scale ad una complessità di funzioni che ha in filigrana in cui in controluce possiamo vedere ancora una volta filtrati attraverso la cultura inglese e francese e qui vado a concludere una matrice piranesiana doni rivoluzionari la visione piranesiana della civiltà antica è una componente vivace quindi nella visione di Jefferson di costruzione di un linguaggio nuovo e identitario per i monumenti più rappresentativi della nuova nazione americana ma la Roma di piranesi in America ha bisogno di essere riportata a regole di essere standardizzata anche in modelli in patterns che possano essere utilizzati e replicati e qui è il ruolo di Francesco Piranesi normalizzatore dell'opera di Giambattista ad essere fondamentale nell'America tra fine settecento e primi decenni dell'ottocento ed è attraverso l'edizione parigina delle opere curata dai Piranesi Frères nella Francia rivoluzionaria e napoleonica che Piranesi quindi si diffonde ormai senza più riserve nel mondo americano sempre più velocemente a partire dai primi anni dell'ottocento nel 1802 nominato membro d'onore della nuova Accademia di Belle Arti di New York Napoleone dona l'insieme dei 24 volumi pubblicati da Francesco Piranesi col patrocinio ufficiale della Repubblica Francese si tratta di un dono diplomatico e di un dono rivoluzionario che ormai poi diventato imperatore Napoleone replica nel 1811 a favore della Pennsylvania Academy of the Fine Arts di Philadelphia nel 1805 un accelerarsi di viaggi di opere piranesiane attraverso l'Atlantico anche il ministro Talleyrand aveva regalato le opere di Piranesi all'ambasciatore americano Robert Livingston e qui Talleyrand specifica proprio affinché potessero essere trasmesse ad un museo and contribute to the education of the American youth in questo stesso spirito nel 1807 è lo stesso Francesco Piranesi questa è devo dire è una lettera molto toccante e sono molto contento di averla trovata perché è lo stesso Francesco Piranesi a scrivere direttamente a Thomas Jefferson un messaggio molto sottile calibrato tra slancio ideale e strategia imprenditoriale perché il presidente faccia comprare dal governo degli Stati Uniti le opere di Gian Battista Piranesi per il bene dell'educazione della gioventù americana grazie grazie è stato per me naturalmente un affacciarmi su un tema che non conoscevo in nessun modo non voglio rubare tempo voglio solo segnalare che però qualche stimolo e qualche riflessione pensando a queste necessità di sviluppare uno stile identitario per i nuovi territori per questi paesi in formazione mi faceva tornare in mente le tavole dei progetti standardizzati di Luigi Rusca e William Hesti che ieri ci sono state presentate da Dmitri Svitkovski le due interpretazioni parallele con modalità così differenti e in qualche modo un'inversione dell'urgenza la capitale Pietroburgo aveva già le architetture monumentali ma doveva produrre le nuove forme per le nuove città qui invece la prima esigenza è quella di un'architettura intima che poi approda l'esigenza del monumento si chiude qui quindi questa prima microsezione di oggi e facciamo direi subito un break per poi partire con la sequenza successiva grazie